quest'estate il ministero della cultura fa una cosa straordinaria c'è cinema revolution potete andare anche voi al cinema a metà prezzo metà prezzo prezzo invece il mare a prezzo intero dove vai perché le rivoluzioni hanno sempre poi un atto d'amore dal 16 giugno al 16 settembre possiamo andare a vedere cinema italiano ed europeo al costo di 3 euro e 50 per il resto ci pensa il ministero quando si entra in un cinema tutto buio c'è solo uno schermo illuminato ci si perde quella storia chi guarda i film ha sempre qualcosa da raccontare questa estate con 3 euro e 50 metà del biglietto il resto lo spendete come volete non ci sono più scuse quindi approfittate andate al cinema perché si paga a metà per tutta l'estate vedere i film italiani ed europei al cinema costa solo 3 euro e 50 grazie al contributo speciale del mic tutti i dettagli su cinema revolution punto it